Ok, ci siamo? Tu sei pronto? Sì, sì, dammi 30 secondi e sono a posto. Va bene, allora proviamo noi due il pezzo del ritornello, ok? Ok, stacco io. One, two, three, and four! Un attimo, stavamo provando, aspetta un secondo, intanto che finisce a metterti a posto. Scusa, stavamo sistemando i torni dello sovrapensiero, perdono. Ok, va bene, allora sei pronto adesso? Quasi finito, quasi finito. E muovi, chi cazzo? Ci metti sempre mezza giornata. Eh, ma per te è facile. Beh, arrivi, metti un jack e sei a posto. Cosa te ne frega? Va bene, intanto che finisce riproliare la parte. Adesso, per piacere, faccelo finire almeno, ok? Ok, one, two, three, and four! Dai, ancora, figlio, ma facci finire un attimo. Dura un minuto, aspetta un attimo, no? Va bene, dai, sono pronto, così duriamo tutti, ok? Dai, dai, forza. Va bene, dai, ok. Allora, guardiamo un attimo. Oh, hai finito? Eh, ma stai calmo, stai calmo. No, perché adesso è veramente rotto le palle. È che non mi convinceva tanto il suono dell'adulante. Quindi siete tutti uguali, o tutti i batteristi, tutti uguali. Fate solo che casino. Che modi, ragazzi. Allora, pensiamo un attimo del tornello. Così il basso va benissimo, c'è un bel gru, fantastico. Tieno così. Invece per la batteria, pensavo di mantenere il tempo su Charleston, ok? Però cassa è rullante, fai pochi colpi. Non esagerare, non tenino leggero. Vabbè, proviamo. 1, 2, 3, 4. Stop, stop, stop. Un momento. Allora, intanto, meno colpi, ok? Poi, non riesci a fare con cassa all'adulante? Tum, ta, tu, tu, ta. Semplice, no? Ma secondo me, questo è più in linea con la linea di basso. Ci sta meglio. No, prova un attimo, come ti ho detto io. Stai sicuro che viene una figata. Sempre appena insisti? 1, 2, 3, 4. No, 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 no. Ma scusa, perché ti sei fermato? Non senti che non c'è francazzo? Ma va benissimo, è bellissimo. Per me fa cagare così la batteria. Beh, ascolta, il bale l'ho scritto io e decido io, sempre ammetti. E adesso proviamo. Ah, vabbè, se la metti su questo piano. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Grazie a tutti.